Il 2016 è l'anno delle Olimpiadi in Brasile e Gela, oggi in una location unica al mondo, nel parco archeologico delle Mura Timorontè, ha avuto i suoi giochi olimpici. Grazie all'impegno dell'associazione Green Sport, presieduta da Giuseppe Veletti, sono stati accolti 1500 piccoli atleti nell'ambito della settima edizione delle mini Olimpiadi Gela, città greca. I protagonisti sono stati i bambini delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di secondo grado. Ci sono migliaia e migliaia di bambini e ragazzini con le famiglie e sembra veramente incredibile, quindi a volte i miracoli si possono avverare. I miracoli bisogna anche crederci, sussistono perché ci sia la voglia, la passione, la capacità di crederci fino in fondo e noi ci stiamo credendo ormai da sette anni. I gelesi altrettanto lo stanno apprezzando, sono 1500 i bambini iscritti, 1500 atleti. Abbiamo avuto atleti anche testimonial che hanno partecipato ai mondiali e che andranno alle Olimpiadi in Brasile, per cui una manifestazione esemplare. Grazie veramente ai bambini, grazie ai genitori, grazie ai gelesi che hanno voluto essere qui presenti. Sicuramente la presenza anche di Antonio Tallarita è arrivato ieri sera da Reggio Emilia per testimoniare appunto questo evento che si sta allargando in tutta la regione Sicilia. Un campione tra giovani campioni. Il futuro e la purezza di questi ragazzi lascio immaginare sicuramente che usciranno i grandi campioni. Che emozioni prova a stare oggi nella sua città natale, in un luogo che rivive in questa giornata insieme a tanti bambini e a tante famiglie? Io ricordo da bambino venivo a correre qua, perché era l'unico posto dove non c'era traffico e quindi ritornare qui dopo quasi 40 anni, se non 45 anni, è molto emozionante. E vedere tanti bambini emoziona ancora molto di più. Oggi è una bella manifestazione, ci sono molti ragazzi, sono felice per questo, che a Gela ci sia un movimento più allargato. L'iniziativa di oggi è stata organizzata grazie al patrocinio del Comune di Gela e alla collaborazione del direttore del Museo Archeologico, il Comitato della Croce Rossa e l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga e rientra nelle manifestazioni della Primavera dell'Arte. Appuntamento a questa sera alle 18.30 con l'inaugurazione della mostra d'arte gestita dal Centro di Spiritualità Cristiano Salvatore Zuppardo e il convegno con la professoressa Raffiotta, il ritorno degli dèi e il ritorno della maschera di Ade. Quindi appuntamento a stasera e non mancate, ci saranno tantissimi altri appuntamenti da seguire con la Primavera dell'Arte, seguiteci e scoprirete che tutto questo è fatto per valorizzare Gela. Siamo anche qui quest'anno per inaugurare questa quarta edizione della Primavera dell'Arte. Abbiamo i figuranti in abiti greci in questo contesto bellissimo che merita di essere valorizzato.